Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video dove parleremo di personaggi del grande fratello VIP, in questo caso di Ginevra Lamborghini, che è nata e cresciuta in una delle famiglie più famose d'Italia. Dopo il liceo Ginevra si è poi iscritta alla Cattolica dove ha seguito i corsi di scienze politiche e relazioni internazionali, per poi andare avanti e scegliere l'Università di Bologna in particolare per poter seguire se possibile la sua passione per la moda, con la facoltà di Cultura e Tecnica del Fashion. Figlia di Tonino Lamborghini è nipote del più noto Ferruccio, il fondatore della storica azienda produttrice di automobili con sede a Sant'Agata Bolognese. Sua mamma è Luisa Peterlongo e i suoi fratelli sono la mitica Elettra, Ferruccio e le gemelle Flaminia e Lucrezia. Come la sorella più famosa anche Ginevra è appassionata di musica e nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo su Spotify dal titolo Scorsese. Nel 2021, in occasione del matrimonio della sorella con il DJ Afrojack, in molti avevano notato la sua assenza ed era stata lei stessa a spiegarne i motivi, ma tutto questo particolare ha prodotto molto scalpore generale e se ne era parlato tanto. Comunque, nel 2022 possiamo dire che finalmente è entrata nel cast del grande fratello VIP7, di cui ne sentiremo molto parlare, e di lei sappiamo brevemente che è nata a Bologna il 25 settembre del 1994, la sua altezza è 1,60 m per un peso circa di 50 kg. Insomma, la possiamo trovare bella in forma. Questo è tutto per quanto riguarda questa news, tanto ne sentiremo parlare veramente tantissimo all'interno del programma. Un saluto grande da Max, quando volete lo sapete, ci ritroveremo qui per un prossimo video.